In tempo di pandemia la scuola ha retto, il lavoro di presidi e docenti è stato incomiabile ma per i sindacati ai complimenti non sono seguiti i fatti. Il personale è preso con contratti covid a scadenza dicembre, non si parla di rinnovo, c'è la questione della stabilizzazione degli organici, un contratto fermo da anni, più mansioni ma non riconosciute a livello economico soprattutto con la DAD, insomma le questioni sul piatto sono numerose e riguardano pure il personale ATA. Nella legge di bilancio però mancano completamente le risorse per la scuola nonostante si siano spesi tanti soldi per i banchi ad esempio e così i sindacati si sono ritrovati a fare una conferenza stampa dinanzi all'ufficio scolastico regionale per denunciare tutto questo e se non arriveranno risposte la lotta continuerà hanno detto. Per tamponare l'emergenza sono stati nominati, sono stati fatti i cosiddetti contratti covid, che ha contratti fino al 31 dicembre ma a tutt'oggi non abbiamo la certezza della proroga, l'abbiamo per il personale docente e non l'abbiamo per il personale ATA. Quindi cosa faranno le scuole dopo il mese di dicembre soprattutto per il personale collaboratore scolastico? Intanto il rinnovo del contratto perché noi abbiamo un contratto nazionale rinnovato dopo più di dieci anni di assenza contrattuale di rinnovo, l'abbiamo rinnovato, è scaduto nel 2018 e siamo in attesa di rinnovarlo. La legge di bilancio non ha previsto minimamente risorse che possano favorire un rinnovo dignitoso e che avvicinino maggiormente gli stipendi dei lavoratori della scuola italiani, docenti e personale ATA agli standard europei. Noi abbiamo un contratto di lavoro che disciplina gli obblighi del datore di lavoro che è il ministero e gli obblighi dei docenti. Bene, il Parlamento italiano è intervenuto con delle leggi che aumentano il carico di lavoro e quindi gli obblighi dei lavoratori gratis, senza modificare le retribuzioni del personale della scuola. Mette in evidenza proprio un problema molto serio, è quello delle relazioni sindacali. A quanto pare sembra che si possa far meno le cosiddette forze intermedie, cioè dell'intermediazione sindacato, c'è una particolare propensione che parte forse dalla 107 di Renzi, quello di non dialogare con le organizzazioni sindacali.